Riccardo Pera, vittoria al Mondiale sulla pista di Spa-Francorchamps, una soddisfazione enorme, una prestazione anche importante. Sì, è stata veramente una sorpresa, diluviava, pioveva veramente tanto sulla pista belga. Niente, praticamente siamo partiti per la gara, tra scrosci d'acqua, neve, uragani nella pista. Però niente, alla fine, nell'ultimo mio stint di gara, sono salito in macchina, che la pista era praticamente impraticabile. Eravamo in quinta posizione, però un sorpasso dopo l'altro sono riuscito ad arrivare secondo, subito dopo un giro. E poi dopo mi sono messo alla caccia dell'Aston Martin, che era in prima posizione, l'ho raggiunta e l'ho passata dopo l'Rouge Radeon, che era una delle curve più famose del circuito. E niente, alla fine siamo veramente contenti, sono rimasti tutti sorpresi di questo risultato, che appunto era la mia seconda gara del Mondiale, però è stata veramente una bella, 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 bella vittoria. In tre anni stai bruciando le tappe, dal debutto al Mondiale con un podio già in Giappone e adesso questa vittoria. Qual è il segreto? Eh, praticamente sì, ho iniziato con le macchine nel 2016, con appunto il campionato italiano vinto con la Porsche Cayman GT4, e niente, poi sono susseguiti dei risultati che poi alla fine hanno portato appunto a questa gara del campionato del mondo, e spero in futuro a altre gare ancora importanti. Tempo di uscire qui dagli studi di Noi TV e sei in partenza per Monza, domenica all'Europeo. Eh sì, proprio oggi sono in partenza per il campionato europeo, che si svolgerà appunto sulla pista italiana di Monza, e sì, sono stato solo un giorno a casa, e poi giusto al tempo di lavare la roba e rifare la valigia, che sono subito in direzione di questa seconda tappa dell'Europeo, che appunto cerchiamo di riconfermare il podio, se non meglio, cioè puntare la vittoria, e niente, insomma, siamo pronti e speriamo in un bel risultato.